Signore e benvenuti in questo nuovo live video di qualsiasi cosa che si rende in questo momento Continuiamo la nostra storia su Kingdom Hearts, The Chain of Memories A un farmato giusto giusto fino a livello 50 Andiamo ad affrontare il nostro boss, che è il nostro caro Vexen Ma prima di affrontarlo, vorrei andare a prendere il tesoro di questo mondo Dovrebbe essere dopo questa porta qua Facciamo un piccolo recap Vexen ha sfidato Sora, pensando di essere superiore a lui in qualche maniera Solo che poi a un certo punto si era preso lo personale perché Sora l'ha sconfitto E ha deciso di tradire l'organizzazione mostrando un qualcosa che forse a Sora non sarebbe dovuto essere mostrato Ovvero questo mondo, perché questo mondo come stiamo vedendo non è un mondo mannaggia Non è un mondo che Sora conosce Ed è un mondo che non ci è mai stato mostrato prima d'ora nel primo gioco Infatti questo mondo non esisteva Bisogna capire come questo mondo ha a che fare con noi E soprattutto perché Vexen ci ha voluto portare qui Oltretutto la cosa interessante è che è stata affidata anche ad Axel la missione di ristruggere Vexen Nonostante era stato praticamente detto che se avesse fatto quello che gli avrebbe chiesto l'organizzazione Non sarebbe stato terminato, possiamo dirla così Vediamo un po' Blitz stellare Oh, la mostra di Paperino Fino a tre palle di fuoco Ok Ci dà Roxas Attenzione Con un personaggino interessante Ci dà Roxas Non ne parliamo perché sennò vi spoilerò troppe cose Cosa è vero? Cosa senti davvero strano Cosa senti davvero strano Cosa senti davvero non conosce Cosa senti davvero a me Cosa senti davvero a me Cosa senti davvero strano She could do like with no man You forgot lots of other stuff And that's why you're remember Place now And now friend With no man a My memories Sort of came drifting back to me A little piece at a time Not now It's not memories Just this idea that I must a vent天 before Bingo Ciao bella signora Questa cosa è importante Vex non è uno stupido E capisce subito la situazione Anzi qua ci sta anche aiutando C'è il tuo cuore che ricorda Tu sei vero Non lo so questo place Se resta incontrato Con la cina di ricordi E non c'è C'è il tuo cuore C'è il tuo cuore E' un cuore Non sei un mestolo di keyblade Solo un slave A ricordi Sì Esatto come il mio Riku Esatto come il mio Riku Importante Proprio come il mio Riku E guardate che ho parlato Del Sora aggressivo Ecco Da qua in poi O meglio Già da prima Come abbiamo visto Cambiamo un sacco La personalità di Sora Ma dopo queste parole Qua Sora sarà un Dei cadere Non ho cambiato il deck Mannaggia Guardi che i suori Fanno un sacco male Paperi 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 Per favore Paperi 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 Non l'unica cosa che non devi fare Paperi No già Cazzo Vai Cambiamoci deck Papero 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 Non fare blizzard De curami Maledetto Papero Let's go Bastardo D'unberg Son Poi Tu avessi Such fortale Even A la torna Dei Memorizzati Non Di questo E' Ma 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 Si Ma 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 e ti farà la scuola! E ti farà la sua scuola, Sora! Se volessi a chiedere la chica Nomine, i sacchi svolgono, e ti perdono il tuo cuore, e ti finisci a diventare la partita di Marluxia! Marluxia? Cosa ha fatto da nomine? Ha fatto da... Axel! Ciao, Sora! Mi sono trovato a te in un momento malo? Axel... Cosa? Mi sono venuto a te impedire di parlare troppo. Per eliminare la tua existenza. Non, non lo faccio! Siamo solo nobodies che non hanno nessuno per essere, ma ancora siamo. Ma ora tu non puoi essere nulla, invece di essere solo un nobodies. Tu sei da l'acqua. No! Por favor, non! Non voglio... Ciao! Cosa sei? Cosa sei, ragazzi?! Hmm... Non lo so. Non mi ricordo di me stesso. Ha dato finalmente una risposta. Noi nessuno non abbiamo il diritto di esistere, ma tu hai il diritto di essere libero, gli ha detto. Quindi essere un nessuno significa essere qualcuno? A quanto pare in questo gioco sì. Quindi nobodies e nessuno hanno un significato di esistenza. O meglio, non lo hanno, ma li vediamo fisici. Cioè, sono persone fisiche. Infatti, il Sora ci ha potuto combattere. Axel ha potuto distruggere il suo amico o collega. Possiamo chiamarlo come ci pare. Abbiamo un'identificazione di questa squadra, di questa organizzazione. Un'organizzazione di nessuno. Quindi di persone che non esistono fisicamente, ma che hanno un corpo. Molto interessante, ma anche molto filosofico come cosa. Andiamo a vedere cosa intendeva Vexen con diventare il purattino di Marluscia. Ha detto delle cose specifiche a Sora. Ha detto che se continuiamo a fare quello che stiamo facendo, finiremo per diventare il burattino di Marluscia. Quindi in qualche modo Vexen voleva aiutarci ad aprire gli occhi. Quindi questo mondo ha veramente a che fare con noi. In qualche modo Namine non ha a che fare con noi. Però Sora questa cosa ancora non l'ha capito. No. 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 z후 bien a s бли опер advice solo, lui Gian a Sura mi metti. Quindi non disse che erano solo una growa sulla città di Sura, Vabb hours suonarti poi. Abbiamo visto tutte quelle scuole proghi, Non, hai detto che sono utile! Nasi ora sia sua parte, ma tutto großes piano di gioco. Er chgotare la organizzazione sarà come ambi al piacero di saluta. Quindi è dove qua Sura vittà. Sì, è vero. Si vuole vedere Naminé, quindi non possiamo solo dare lui quello che vuole? Rejoice, Naminé. Il tempo è vicino per te, per te conoscere l'hero che hai chiesto. Sono... Ma sto parlando di te, che non fai mai fare qualcosa per perdere le sentimenti di Sora. Hai capito? Ho capito. Tutto che hai bisogno di fare è mettere le mie ricordi di Sora e portare il suo cuore più vicino a te. Anche se arrivi da me, cosa allora? Quindi possiamo dire che non è Naminé a voler fare del male a Sora, ma a quanto pare è Marlusha, e quindi tutta l'organizzazione. Anche se lo sguardo di Axel qui non era proprio... ... 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